Ciao Agar, come state? Benvenuti nel mio nuovo video. Io sono Samara Incorvaia, cosa ridi? No, li fai. No, li facciamo, togli. Vai. Togli cosa? Ciao Agar, come state? Benvenuti nel mio nuovo video. Io sono Samara Incorvaia e oggi sono in compagnia di Diletta Tarantino. Ciao. E Giarda Cianciarugia. Ciao. Ciao. Dai! Dai! Oggi, come avete letto dal titolo, faremo la post-it challenge. Ciascuno di noi andrà a inserire all'interno del post-it il nome di qualsiasi cosa, che può essere un oggetto, un animale, una persona. Esatto, esatto. Qualsiasi cosa, praticamente. Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa esistente in questo pianeta. Esatto. E noi, facendoci delle domande a vicenda, dovremmo scoprire che cos'è. Potremmo rispondere solamente con o sì o no e niente. E iniziamo col video. Bene, noi abbiamo i nostri post-it. Abbiamo ball di testa. Inizia Giarda con una domanda. Allora, scelgo... No, scelgo... Devi indovinare cos'hai. Devi fare una domanda. Io ho vazita. Allora, è un oggetto. Sto cercando. È un oggetto? Sì. Ma rispondi tu o io? Poi se sì, continuo, se no, tocca a qualcun altro. Sono un animale. Ma no, vabbè, mi sapevo... Sì! Sono un animale? Sì. Ok. Che come è? Sono una persona. No. No. Vai, Giarda. Sì. Sono un'oggetto presento in questa camera. Sì. Sono un letto. No. No. No, non è un coltore, mi viene troppo da ridere. Sono una pecora. No. No. Sono un oggetto presente in questa stanza? No. No. In questa stanza no. È una cosa di elettronica? No. Ok. Che verso fa? Non posso chiedere. No. Ho il pelo lungo. No. No. No, no. Eh... Faccio parte del bagno. Sì. È una sedia? No. No. Sono bianco? No. No. Non ci fai. Sono un cesso? No. È una certa famosa quindi? Una certa famosa. È famosa, è utile. È utilizzata, sì. Ok. Sono un animale domestico? No. Sono un bagno schiumo? No. La schiuma mia? No. Sono un bisonte. No. Che ne so? Sono un fettine. No. Sono grande, cioè è grande questo oggetto. No, è normale. No, è normale, sì. Sono grande? Sono grande? Sì. Cioè, intendo, ci sto nella stanza della mia cameretta. Sì, sì. Sì, sì. Sì o no? Sì, sì. Sì, sì. Cioè, non è enorme questo amore. Che fa parte di un cartone. Ti avrà dato un indizio? Un parco. Fa parte di un cartone. Cosa significa? Eh, questo animale fa parte di un cartone. Fa nero. Cartigenta. No. No, cuscino. No. Sono un mammifero. Sono un mambifero. Faccio le uova o faccio le cucciole? Sì, sì, è un mammifero. E' cuccioli. Faccio le cucciole? Sì. Ma io posso essere usato per se... per lavare qualcuno? Sì. Sì. Ti do l'aiuto da casa. Vengo usata spesso. Spesso? Sempre? Così, duramente. No, spesso fuori da casa. Mi arrampico? No. Mi aiuto da casa. Fai parte di un cartone. È molto seduto dei bambini. Io a volte lo guardo ancora. Basta. E basta. Sì, perché ci arriverai troppo. Questa è capito. Vado a me, ti tocca il testo. Sono uno straccio? No. Aspetti, guardiamo tutti in camera. Facciamo tutti lo stesso movimento. Fallo già, ho da fallo? Sì, è scurato. Come cazzo è? Come fai a non riuscirci? Col collo. Beh. Ma io posso chiedere un altro indizio. Cioè, mi avete dato un indizio troppo generico. Tutti ne abbiamo due. Il pappagallo dell'albero azzurro. No, basta, no. No. Raga, dai, datemi un altro indizio. Allora, lo do io. Mi sono andata vicina perché serve, cioè, svolge un'azione che serve a tutti noi quotidianamente. Che sia la sera o il mattino. Quotidianamente è per chi lo fa? Che dico che non lo fa. Sono l'acqua. No. No. E le scapola, allora. Sì. Sì. Hai una famiglia. È buono. Hai una sigla. Basta. Viene nominata. Fine. Imparpa poppa. No. Basta. Sono il sapone. No. Non c'è tutto, torna che è quella cosa. Volo. No. La doccia. No. Ma io sono la piccola. Ma parlo nel cartone. C'è un mio amico, cioè, intendo, faccio i versi. No, no, parlo. Parlo. Sono del lavandino. No. Sono una scimmia. C'è gente che non ce l'ha. Oh, Gusi, ci deve arrivare. No, lei non ce l'ha. Tu non ce l'hai in casa. Ma una cugina ce l'ho. Una scala madre. Sì. Hai un fratellino. Hai una mamma e un mamma che fa un verso gigantesco nella sega. Sono un maiale. E qui sei? Un porco. E qui? Come ti chiami se ne guarda che sei? Peppa Pig. Sì. Hi, Peppa Pig. This is my little brother George. This is my mommy pig. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate il like, condividete il video. Se vi va, commentate qua sotto. Se vi piace. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e vi piace. Anche nella pagina di Facebook. E commentate il video sotto la descrizione. Se vi è stato conoscritto, vi metto a girare questo video. Bella, ragazzi. Ma non è Fabi J. Seguiteci su Instagram. Vi lasciamo i nomi qua sotto. Tutti i link sotto in descrizione. Ve li lascio io perché loro non faranno niente. Ciao. Che mondo rimango. Finito. Ciao. Ciao.